Oggi parliamo di blu di Prussia. Il blu di Prussia è un colore complesso, è un cianuro di ferro, quindi molto velenoso ed ha proprietà che sono particolarissime, quindi bisogna stare molto cauti e bisogna mischiarlo con i colori adatti se vogliamo usarlo nella nostra tavolozza. È proprio questo che noi facciamo oggi, andiamo a vedere quali colori ci possono servire e quali colori possono riuscire a comunicare con questo colore così particolarissimo da una storia straordinaria. È nato nel primo decennio del 1700 e molti sono stati i padri oppure che si ritengono i padri di questo colore nato, pare, casualmente. Ma questa è un'altra storia che andremo a spiegare in un altro video. Ora invece occupiamoci proprio di lui, di come reagisce e di come possiamo usarlo. Il primo dipinto in cui è stato usato questo pigmento, il blu di Prussia, è la Deposizione di Cristo di Peter van der Werff ed è un dipinto, come vedete, molto particolare in cui il blu spicca per essere protagonista del centro della scena. Infatti il mantello, il drappo, il panneggio che avvolge la Madonna è disegnato e di dipinto con questo colore. Un colore avvolgente, un colore molto, molto penetrante e molto colorante, che ha avuto una storia straordinaria nella pittura ed è iniziata proprio con questo dipinto, con la sua applicazione su di esso. Alcune cose bisogna dire. Innanzitutto che, come abbiamo visto, essendo un pigmento complesso, si può abbinare solo ad alcune tinte. Ma come fare per usarlo nei nostri dipinti ad olio? Si possono fare due cose. Si può campire una parte, come abbiamo visto nel dipinto precedente, e utilizzare il colore blu di Prussia insieme agli altri suoi leganti e legami, cioè i colori con cui lui va bene e con lui con cui lui si trova d'accordo, oppure si può dipingere con il blu di Prussia e con gli altri colori a lui mischiati sopra un dipinto, però deve essere molto, molto asciutto, e oppure si può dipingere sopra con altri colori che non possono essere mischiati col blu di Prussia solo quando il blu di Prussia sottostante è molto, molto asciutto. Quindi, adesso andiamo insieme a vedere e a scoprire quali sono i colori e come poterli abbinare. Vi ricordo, e che è importantissimo, iscriversi al canale per mantenersi aggiornati su tutte le proposte video che io, man mano, andrò a fare su questo canale. Quindi, mettere un mi piace, condividere il video nei vostri profili social e commentare, come state facendo, sotto la descrizione. Ma adesso andiamo ad operare con lui e a vedere cosa ci può offrire di straordinario. Buona visione. Andiamo a mettere un pochino di blu di Prussia su questa superficie telata, preparata con bianco di titanio e nero di Marte, completamente asciutta. Vedete come il blu di Prussia si presenta molto scuro, scurissimo. Se non ci fossero delle sbavature ai lati, una percezione realista e da vicino del colore, si penserebbe ad una specie di nero profondo, perché è veramente veramente molto scuro. E quindi andiamo a vedere con un pennello quasi asciutto, che riusciamo a intravedere la tinta blu profonda e tipica di questo colore, molto fredda. Lo vedete anche nei contorni di questo tratto, di questo piccolo pezzetto di colore. Adesso vediamo con il bianco, come le sue capacità coloranti vengono fuori in tutta la sua la sua ampiezza. Vedete, basta pochissimo, basta solo un pennello in tinto, quasi asciugato di blu di Prussia, che il bianco viene colorato in maniera proprio proprio massiccia e molto molto importante. Adesso ripetiamo e vediamo invece di fare una piccola nuova, una piccola sfumatura che vada dal blu di Prussia al bianco. Quindi abbiamo scoperto che il blu di Prussia e il bianco di titanio possono coesistere, però non può invece coesistere il blu di Prussia con il bianco di zinco e soprattutto con il bianco d'argento. Vedete, notate veramente com'è colorante, non coprente, perché il blu di Prussia non ha la capacità di copertura che magari hanno altri blu, come vedremo fra poco, però ha una grandissima capacità colorante ed ha questo blu intenso, molto particolare. Adesso prendiamo del blu cobalto e ripetiamo la stessa la stessa azione che abbiamo fatto con il blu di Prussia, con il blu cobalto. Vedete che il blu cobalto dato così a corpo, e questo è un blu cobalto scuro, però non ha assolutamente nemmeno paragonabile e non è nemmeno paragonabile la sua la sua profondità di blu con quella del blu di Prussia, naturalmente, e così prendiamo del bianco e facciamo con le stesse le stesse dosi che abbiamo usato per la nuance con il blu di Prussia, terminiamo questa con il blu cobalto. Vedete quanto invece il blu cobalto non riesca ad avere quella capacità colorante del blu di Prussia. E adesso facciamo una cosa che si può fare, che ci è concessa, quella di mettere all'interno del blu di Prussia un poco di blu di cobalto. L'unione di questi due colori restituisce corpo alla pittura, e anche corpo alla sfumatura, e rende il colore, il blu di Prussia più pieno, più corposo. Ed è una cosa che si può fare concessa, che non ha grandissimi limiti, da un punto di vista del cambiamento della tinta nel tempo, quindi della resistenza al tempo della tinta. Vedete, ed è come se il blu cobalto acquisisse una capacità colorante grande, e tendesse a questo tono più freddo, che non gli è molto consono. Vedete, quindi acquista in freddezza, e il blu di Prussia invece acquista in corpo. Ecco, in questo modo. Ora entra in campo un altro protagonista, che è il giallo di cromo, ed è l'unico giallo che noi possiamo mischiare con il blu di Prussia, anzi, è direi la sua caratteristica fondamentale e principale, quella di creare, insieme al giallo cromo, dei verdi veramente interessanti e bellissimi. Abbiamo messo due parti di giallo di cromo, e adesso interverremo, guardate, con una piccola puntina di blu di Prussia, e guardate la capacità colorante di questo colore, scusate il bisticcio, e quindi, se è l'unico giallo, il blu di Prussia non si potrà assolutamente mischiare con nessun altro giallo, soprattutto quelli di cadmio e qualsiasi colore di cadmio. Vedete, com'è bastato proprio, un poco, un piccolo frammento, una piccola punta di blu di Prussia, per dare un verde veramente importante, e per colorare, un colore con cui fare attenzione, da moderare e da tenere a freno, perché può veramente in un attimo rovinarci una tinta, o un tono, quindi bisogna andare molto cauti, e bisogna fare le nostre sperimentazioni, come giusto che sia. Adesso ho preso questo piccolissimo tono di giallo, che vira leggermente sul verde, e sto preparando, voglio preparare un verde ancora più cupo e più intenso. Un altro verde, che non si deve assolutamente mischiare con il blu di Prussia, è il verde smeraldo. Il verde smeraldo, assolutamente non va mischiato, come poi anche tutti gli altri verdi, ma questo in maniera particolare. Io sto cercando di fare, adesso, un tono un pochino più più scuro, del verde precedente, per vedere quanto, in questo momento, può, insieme al giallo di cromo, andare in profondità. Chiaramente potrei spingermi ancora più oltre, però vedete come il verde è corposo, ed è molto, ed è molto particolare, è proprio un verde che ha una caratteristica, ha la caratteristica di essere corposo, e di potersi assolutamente, come vedete qui, mescolare con il suo corrispettivo azzurro, in una nuance assolutamente perfetta e conciliante. Adesso, vedete, mi è rimasto un poco di giallo di cromo nel pennello, e questo, vedete, è la tonalità, credo, più profonda, che io posso ottenere, con il giallo di cromo. Gli esperimenti, che io vi consiglio di fare, sono questi, veramente, di cercare, con queste tonalità, che io vi propongo, tutte le combinazioni possibili, perché sono veramente moltissime, e tranne il rosso, che è l'unico colore, che non si può mischiare, gli altri sono tutti, sono tutti colori, che possono benissimo comporre una tavolozza, per il dipinto di un paesaggio bellissimo, e molto, molto, molto brillante. Ecco, adesso sto costruendo un verde chiaro, e questo verde chiaro, ovviamente, lo intensificherò, e concorrerò a dar lui più corpo, con l'aggiunta del bianco, e l'aggiunta del bianco, come vedrete, non opacizza per niente il colore, ma lo fa rimanere sempre molto, molto, molto brillante. Un altro colore particolare, che noi possiamo usare, con il blu di prussia, è la terra di siena bruciata. Questo colore, insieme al blu di prussia, e al bianco di titanio, possono veramente, coprire una vasta gamma di tonalità, che vanno dal rosa, caldo, carico, quasi consumature di giallo, fino ad arrivare a un grigio profondo, passando per i marroni. Quindi, io adesso mi limiterò a fare alcune, alcune prove di colore, alcune ricerche di tono, però, la sperimentazione, e le soluzioni, che si possono trovare, sono veramente moltissime. Vedete, questo secondo rettangolo, ho il pennello poco, bagnato di blu di prussia, e è bastato pochissima, terra di siena bruciata, per riuscire a, a scaldarlo. Come, invece, e basta, che l'equilibrio, si spinga, verso un'altra direzione, per ottenere, come avete visto, un bellissimo grigio, e quindi, si può continuare, veramente, in questo modo, a trovare delle tonalità, assolutamente inattese, come ad esempio, il rosa, o il rosso chiaro, la terra chiara, che ha queste sumature rosate, che si ottengono, se si mischia, il bianco di titanio, con il, con la terra di siena bruciata, e, poi vedremo, come, con l'aggiunta del blu di prussia, questo, subito, tende ad ingregirsi. ecco, pochissimo, vedete, pochissima, pochissimo blu di prussia, che si raffredda subito, si raffredda subito, però basta pochissimo, basta un piccolo tono, di terra di siena bruciata, e il colore, vedete, ora è un pochino più scuro, però si scalda immediatamente, immediatamente, quindi, abbiamo visto, un altro colore, che si può mischiare, e questa nostra tavolozza, si sta, si sta riempiendo, e si sta, e sta diventando, molto preziosa, questi colori, ci vengono, molto utili, nei paesaggi, perché, il blu cobalto, il, la terra di siena bruciata, il bianco di titanio, aiutano, a dar corpo, alle tinte, e, adesso, vedete, che è entrato, in campo, una lacca, la lacca di garanza, che noi, campiamo, in un piccolo rettangolino, ovviamente, la lacca di garanza, è un colore, molto trasparente, come abbiamo visto, e, con il blu di prussia, assume delle tonalità, di scuro profondo, straordinarie, impensabile, ovviamente, se noi lo schiariamo, andremo su un tono violetto, che potrà essere, come in questo caso, un tono violetto, che dà sul blu, vedete, adesso, che, con il bianco, ecco, adesso, ancora, un po' di lacca di garanza, per dargli, un poco di corpo, un poco, ancora, di blu di prussia, e, poi, dopo una pulita, il pennello, con il bianco, fare una tonalità, una sfumatura, anzi, che viri, sul violetto, vedete, questa, questa sfumatura, che, poi, noi, possiamo, delicatamente, essendo la lacca, un colore, non coprente, però, abbastanza colorante, nel quanto riguarda il blu di prussia, per riuscire a creare, questo, bellissimo, tono, violetto, e, ovviamente, se noi, ci spingiamo, invece, dall'altra parte, cioè, accentuiamo, di più, la presenza, della, della lacca di garanza, otteniamo, un colore, viola, e, quindi, più tendente, verso il rosso, abbiamo visto, nel corso, di questo video, come, veramente, una punta, in meno, o, in più, di blu cobalto, fa la differenza, nella formazione, di toni, e di tinte, quindi, questo colore, va usato, si, con parsimonia, ma, può essere, se compreso, molto interessante, e importante, per la nostra tavolozza, oserei dire, che, non vi sono, colori indispensabili, ma, colori, necessari, al tipo, di dipinto, che, noi, ci prefiggiamo, di fare, un'accortezza, che vi consiglio, di avere, se usate, questo tipo, di colori, soprattutto, il blu, di prussia, e, il giallo, di cromo, di tenere, sempre, un ambiente, ben areato, e, di chiudere, i tubetti, una volta, che, li avete usati, molto bene, e, di mettere, la tavolozza, o, pulirla, o, metterla, in un luogo, dove, noi, non vivete, assolutamente, quindi, io, vi consiglio, di, lasciarla, in un posto, a parte, oppure, addirittura, se, voi, l'avete usata, di pulirla, assolutamente, e, di, riporla, completamente, pulita, e, completamente, liberata, da ogni traccia, e, di, blu, di prussia, e, di giallo, di cromo. Sono, due colori, particolari, due colori, con cui, avere attenzione, e, quindi, usarli, veramente, con cautela. Vi chiedo, di iscrivervi, al canale, se il video, è stato utile, e, informativo, e, vi chiedo, anche, di mettere, un mi piace al video, di condividere, questo, sui vostri profili social, e di commentare, come state facendo, da sempre, e, in maniera straordinaria, sotto la descrizione. Non mi resta che augurarvi, una buona giornata, e, arrivederci a presto.